Uno scorcio panoramico deturpato dalla spazzatura. In località Portoscala, di fronte all'area delle giostrine a via Calastro a Torre del Greco, il degrado è nuovamente intollerabile. Grossi sacchi contenenti presumibilmente rifiuti di vario genere, in particolare scarti edili, sono depositati da tempo immemore tra le auto in sosta. Non mancano ingombranti ed altri rifiuti a completare un quadro fatto di abbandono e non curanza. Dalle segnalazioni giunte in redazione è chiaro il malcontento di chi frequenta la zona e soprattutto si chiede chi debba controllare gli sversamenti abusivi e perché i rifiuti non vengano poi successivamente prelevati. Un colpo d'occhio ancora più evidente ora che inizia la bella stagione e l'area torna ad essere frequentata da mamme con bambini, giovani o semplicemente da chi si reca nelle attività ricettive della zona o negli stabilimenti balneari. L'auspicio è che chi debba intervenire lo faccia in tempi brevi.